Siglata a Teramo l'intesa tra Ance, Eventi Italia e Manpower per l'inserimento di nuovi lavoratori in edilizia. L'iniziativa prevede un'importante attività di selezione e reclutamento di lavoratori disoccupati o inattivi, interessati ad entrare nel mondo dell'edilizia. Il settore soffre da anni dell'assenza di ricambio occupazionale pur garantendo contratti stabili, una buona retribuzione e molte prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie. Per noi è un problema nostro che viene da lontano, abbiamo sempre avuto negli ultimi anni problemi di ricerca della mano d'opera e con questo corso cercheremo di avviare al mondo edile 10-12 unità che avranno un percorso di formazione teorica e poi per essere immessi nel mondo lavorativo. Ovviamente l'obiettivo è anche quello di far avvicinare le nuove generazioni perché l'età media ad oggi è alta. Sicuramente sì, questo lo dico sempre che purtroppo è un problema culturale. Quando si parla del mondo edile ci si è un po' qualcuno che storce il naso e invece io ribadisco, è un mondo in cui i lavori, i contratti sono sempre a tempo indeterminato, sono ben retribuiti. Adesso è cambiato anche il tipo di lavoro, il lavoro manuale è quasi a zero, è tutto meccanizzato. Perciò io spero che le nuove generazioni colgano questa occasione. Il corso di formazione programmato tra il 22 marzo e il 28 aprile avrà una durata di 120 ore ed è finalizzato a fornire le conoscenze e le abilità di base propedeutiche all'inserimento lavorativo dei partecipanti presso le principali aziende del territorio. Manpower sta sempre impegnata nel match tra le opportunità lavorative e quelle che è il bacino dei candidati presenti sul territorio. Esiste un grande mismatch tra quello che viene richiesto, in questo caso parliamo di operatori edili, di cui l'accordo con Ance, e le professionalità che scarseggiano sul mercato del lavoro. Con interventi formativi di upskilling e reskilling noi ci proponiamo di creare opportunità di inserimento occupazionale per i soggetti più deboli in situazioni di svantaggio, disoccupati, che vogliono rimettersi in gioco ed entrare nel mondo del lavoro.